Buongiorno a tutti, benvenuti a questa iniziativa che si inserisce all'interno della settimana della cultura in cui le scuole si aprono al territorio, quindi speriamo stamattina di poter offrire una parte del progetto che riguarda appunto Scacco Matta alla mafia, che è un'opera scritta e pensata per i ragazzi, allo scopo di ragionare insieme sulle principali tematiche di educazione alla legalità. Dal racconto nasce la drammatizzazione di questa partita, per realizzare il progetto sono stati invitati a partecipare Navarra Editore, Lanci e la Fondazione Falcone. È stato scelto questa giornata, il 16 maggio, proprio perché inserita all'interno della settimana della cultura, ma questa è solo una simulazione, quindi vi invitiamo il il 23 maggio a Piazza dell'Unità, perché c'è la celebrazione, la ricorrenza della strage di Capace e del giudice Falcone e quindi i ragazzi riproporranno questo evento. Adesso diamo inizio alla drammatizzazione, sperando che ciò che dicono i ragazzi possa colpire un po' perlomeno, farci riflettere un po' sui valori della legalità. Grazie. Chiediamo silenzio, perché i ragazzi si sono molto impegnati, sono anche emozionati, quindi vi prego di prestare attenzione e di fare silenzio. La partita giocata tra Polillo ed Essere e Sartrice è stata la vita giocata dal grande Morphy, Neopendi del Bianco, nel 1858, contro due avversari, il duke di Braswitz e il conto Isward, i quali giocavano in consultazione. I personaggi che animeranno la nostra partita sono Giovanni Microfono e Marta Vinci Guerra, i commentatori della partita, maestri di scacchi, maestro russo, dottor Casparo Chioff, maestro cinese, dottor Miau Puyang, maestro tedesco, dottor Bruno Fonstein, la deliziosa madame vive la libertà. Io sono una zana abbassa dal mandamento di Lupara Mozzata, ho capito che il 23 maggio è un giorno davvero importante per la lotta alla mafia e per limitare i danni all'immagine di cosa nostra. Ho pensato a rigettare un po' di fango su questa giornata, sfidando lo Stato in una partita a scacchi, una sfida tra cervelli di svolgersi in piazza il 23 maggio, ma alla condizione che al posto di pedine ci siano uomini e donne in canne d'orso. naturalmente vinceremo noi, cittadini onesti pochi ci sono. Io sono estraestoltrice, sono la nipote di Don Vito e vincitrice del torneo internazionale Juniores di scacchi, che la mafia organizza per i suoi affiliati. Sono una ragazza che ha fatto dell'estorsione il suo ideale di vita. Mi chiamo Paolillo Buonasorte e sono un adolescente con il pallino per gli scacchi. Ho vinto le qualificazioni al campionato Juniores giocando bendato e grazie a queste mie qualità sono stato scelto dal questore Gattinori a giocare la partita del 16 maggio per conto della squadra della legalità. Benvenuti carissimi spettatori, oggi assistirete alla sfida tra la legalità, il bianco, e la mafia, il nero. In gioco non ci sono né premi né medaglie, ma qualcosa di più importante, la possibilità di scalfire una volta per tutte l'imbattibilità di Cosa Nostra. Ad accompagnarmi in questa straordinaria diretta c'è Marta Vinci Guerra. Diamo la linea a Marta. Grazie Giovanni, li vedo bene. A rappresentare il nero c'è estraestoltrice, nipote di Don Vito mi mangio la coppola e vincitrice dell'ultimo campionato internazionale Juniores di Scacchi, Mafia is Beautiful. Dall'altro lato Paolillo Bonaforte è un fan prodise, vincitore del campionato studentesco di Scacchi. Sembra che vinca giocando persino bendato. Questa sarà una sfida a altissimo livello, piena di colpi di scena. E allora continuiamo con la cronaca. Davanti a voi i giocatori sono già ai loro posti. A commentare con noi la finale ci saranno Don Vito mi mangio la coppola e i nostri esperti che vi prego di salutare con un applauso. Il maestro Casparocchio. Il maestro Miao Guiang. Il maestro Bruno Gostein. E Madame Vive la Liberté. La sfida è iniziata, entriamo subito nel vivo della partita con il bianco che muove. E quattro. Il pedone di re si sposta di due caselle in avanti. Io rappresento le nuove generazioni che si impegnano affinché magistrati e forze dell'ordine e cittadini comprano per assicurare un mondo senza risoprosi e criminalità. La legalità inizia la sua partita prendendo posizione sulla scacchiera nelle sue caselle centrali. Se è questo che vuoi allora avrai pampe e focaccia. Il pedone di re avanzi di due caselle e si vada a mettere di fronte a quel pusillanime. In E5. Invece io rappresento l'esercito dei picciotti al servizio del boss, sempre pronti a spacciare e a ravinare e a far prevalere la forza. Sappiamo, nascondeci nei vicoli, ma anche dietro a un colletto bianco e una gravata. Il nero risponde facendo avanzare i suoi pedoni di re di due caselle. La criminalità fronteggia questo primo attacco della legalità. Ti conosciamo bene, non c'è bisogno che tu aggiunga una sola parola. Adesso vedi cosa ti combino quando le forze dell'ordine entreranno in gioco. CFD, il cavallo dal fianco del re, esca dalle scuderie per entrare in gioco, scavalcando la fascia dei pedoni. È il momento di presidare il territorio. Io rappresento le forze dell'ordine contro le richieste di pizza che devono pagare i cittadini. Ma riguarda tutti noi, quante volte non prendiamo uno scontrino fiscale oppure non svolgiamo il nostro dovere di cittadini onesti? Allora dobbiamo combattere per i nostri diaritti e per la legalità. La tua è tutta invidia e lo sai come il recito ha detto. La tua invidia è la mia fortuna. Il nero alza le sue difese facendo avanzare il pedone di donna di una casella. In D6. Ci chiamano Picciotti e controlliamo che commercianti e imprenditori versino nelle nostre casse una piccola tassa. Se volete chiamarla Pizzo a noi sta bene. È inutile, non riuscirete a intimidirci. Avanti il pedone di donna di Ducosella in avanti. Questa mossa rappresenta la lotta della legalità, allo spaccio della droga e alle sofferenze della gente vittima delle scostanze stupefacenti. Lottiamo contro la droga. Facendo avanzare il suo pedone di donna di Ducosella, la legalità vuole controllare il centro della scacchiera e il suo punto è nevraltico. Ma si sa che il denaro non è tutto nella vita. Ora vediamo cosa da dire riguardo ogni alfiere. Alfiere, in G4. Quello che dice è giusto. Io rappresento la lobby degli spacciatori e ti posso assicurare che noi non apriamo le porte dell'inferno. Al contrario, regaliamo momenti di felicità. Noi diamo la possibilità ai nostri affessionati clienti di partire per luoghi sconosciuti e affascinanti. Certo, magari i risveglio saranno un po' malconci. Primeranno, avranno le occhiaie. Non riusciranno più a capire ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Perderanno ogni interesse per la vita. Ma non è forse questo che vuole la società di consumi? Un po' inquietante. Mi avvicino al tavolo dei maestri internazionali che hanno accettato di commentare per noi questo avvenimento. Maestro Kasparokhio, come ritieni questa uscita di alfiere da parte del nero? Credo che attaccare il cavallo non esprima bene il nero. Ma la vita non può pensare di abbattere il rappresentante in lotta a pizzo e avere strada aperta verso completo controllo di suoi affari. La presa di centro da parte di legalità è strategia vincente. Sono i pedoni, i cittadini, che hanno nelle loro mani destino di nostra società. Mossa di nero non porterà niente di buono. Grazie, maestro Kasparokhio. Il bianco si sta preparando una nuova mossa. Sì, il bianco attacca il centro, conquistato il pedone nero dei cinque. Il pedone del re nero è stato catturato dal pedone bianco di regina. Tutti i pedoni bianchi hanno il diritto di esultare. La criminalità non può vincere, distruggere ogni cosa bella, anche i pacchi per i bambini, con gli atti di vandalismo. Non le permetteremo. Che entri in campo l'alfiere nero, pedalissimo servitore. Catturi il cavallo, alfiere per cavallo in F3. Pensavi che ti avremmo lasciato contrastare i nostri affari senza fare niente? Non possiamo permettere che certi messaggi si diffondano. Non è bene che la gente conosca. Non è bene che la gente parla. Non è bene che la gente si confronti. L'atmosfera inizia a farsi pesante. Ma proviamo a consultare di nuovo i nostri commentatori internazionali. Caro maestro Bruno Rostain, che ne pensa della partita? Certamente la poestra di Cafallo, da parte di Alfiere Nero, ha permesso un maggior coinvolgimento nel gioco della regina bianca. Voi sapete bene che cosa succede quando le donne entrano in gioco. Danno filo da torcere a tutti. E credo che anche in questo momento ne vedremo delle pelle. Aspetta e vedrà, mio caro. Ecco che sono stato catturato dalla nostra regina. Io rappresento la magistratura e veglio su tutti i cittadini. Lo storio è più forte. La legalità vincerà sulla criminalità. L'Alfiere frizza l'occhio alla sua regina. Vogliono la salvaguardia dell'ambiente contro l'abusivismo edilizio e l'abbandono dei rifiuti tossici. Di per il 5, anche il nero cattura il pedone bianco di re. Non pensiate che vi lasceremo mantenere il controllo per molto. La legalità non lascia la criminalità al tempo di gioire. Ed ecco che entra in gioco un altro palladino della giustizia e correttezza. L'Alfiere che si posiziona il supporto della regina. Parliamo ora della tutela della natura. Lo smaltimento dei rifiuti è una nuova attività redditizia della criminalità. Molti rifiuti sono anche tossici e si trovano sotto il terreno che l'agricoltore coltiva e vicino ai fiumi che usa per irrigare i campi. Alla fine noi mangiamo quei cibi. Non è giusto. Che tristezza! Vergognati, scusate lo sfogo, ma sono proprio allergica all'illegalità. Forse è il caso di tornare alla partita. Ma dove eravamo arrivati? Ah ecco, ricordo, il bianco aveva messo in campo il suo alfiere e... Cavallo, neppe sei! Vai cavallo ad aiutare i tuoi fratelli in difficoltà! Nei momenti di bisogno noi siamo una grande famiglia. Non lasciamo mai i nostri picciotti da soli. Se pensavate di averci spaventato allora sbagliavate di brutto. E no, la regina non si abbatte. Il bianco muove la donna in E3. Il bianco non si abbatte e continua a dispegnare i suoi pezzi da 90 per avere il controllo del centro della scacchiera, portando avanti il suo secondo cavallo. Ma anche noi abbiamo deciso di far scendere in campo un pezzo forte, facendo avanzare la regina nera di una casella. Donna, in E7. Se è lungo parlato del ruolo che le donne, spesso moglie o madre di uomini di mafia, hanno la gestione degli affari di famiglia. Alcune di noi hanno denunciato i propri mariti per i crimini commessi, ma altre partecipano appena alla gestione degli affari di cosa nostra. Noi donne di mafia siamo molto determinate e se necessario proteggiamo il nostro re anche a costo della vita. Anche l'altro pere bianco ha pronti a viso aperto la criminalità. Questo protagonista della scacchiera ha come obiettivo la lotta allo sfruttamento minorile. Noi siamo per la tutela dei giovani, per il diritto di andare a scuola, giocare e avere una formazione e per poi lavorare. La criminalità vuole calpestare la carta dei diritti del fanciullo del 1949. Noi tuteliamo i diritti dell'infanzia. Attenzione, il nero muove. Dovevi dire un'altra mossa.